Il coraggio di osare, investendo in nuove tecnologie, entrando nel mondo del web marketing, acquisendo nuove tecniche, assumendo il ruolo di leader all'interno della propria azienda. A farvi uscire dalla vostra comfort zone, il 24 settembre 2022, durante la seconda edizione di Roma Caput Digital Dentistry, ci penseranno relatori di fama internazionale, del calibro di Roberto Pistilli, Alessandro Pozzi, Alessandro ed Andrea Agnini, Filippo Domarelli, Maurizio Di Francesco, Maurizia Cacciatori, Andrea Imposti, Ivan Ritarossi ed Andrea D'Urso. Non mancate! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS